La CR Messina prepara la trasferta di Marsala dopo la tempesta che si è abbattuta in settimana. Si provano a diradare le nubi al termine di sette giorni davvero impegnativi culminati in un vertice dirigenziale. Intanto non ci sono comunicazioni ufficiali per via del silenzio stampa. L'FC Messina invece ospite il Nola e vuole ritrovare l'appuntamento con i tre punti. Per l'occasione biglietti d'ingresso al Franco Scoglio a partire da 6 euro in prevendita. Gratis over 65 under 14. In eccellenza il città di Sant'Agata viaggia alla volta di Gela. Il paternò capolista renderà visita all'Atletico Catania. In promozione girone C il Milazzo ospita il villaggio Sant'Agata. Nel girone B si apre con gli anticipi Meri Castelluccese e Sinagra Stefanese. Le due prime della classe saranno invece impegnate entrambe tra le rispettive mura amiche. L'Acquedolci ospita il Due Torri. L'Igea riceve l'Acquedolcese. In casa anche la Sant'Angiolese contro il Castelbuono. Il Rocca di Caprileone lancia il guanto di sfida al Gangi. Interessante derby, gioiosa nuova rinascita, con preda il quadro Torrenovese pro Falcone.